L'olio che si produce in regione giustamente viene chiamato l'oro verde della Calabria. Per questo è importante che vengano fatti i controlli accurati affinché vengano rispettati tutti i disciplinari previsti dalle leggi sia italiane che europee. Ma questi controlli non vengono fatti solo dal punto di vista del prodotto. È importante che tutta la filiera sia norma. Per questo contribuiscono anche le forze dell'ordine a eseguire i monitoraggi mirati alla prevenzione dell'ecosistema locale, in concomitanza soprattutto con il periodo della molitura delle olive e della produzione dell'olio. Nell'ultimi mesi i carabinieri del comando di Gioia Tauro hanno controllato oltre 15 imprese agricole che gestiscono i frantoi nei comuni di Molocchio, San Giorgio Morgeto, Vareapodio, Tauria Nova e Cittanova riscontrando il generale rispetto delle normative di settore. I militari dell'arma però non si sono limitati a verificare all'interno degli opifici ma hanno esteso i controlli anche i terreni agricoli e i corsi d'acqua limitrofi. Proprio durante uno di questi accertamenti i carabinieri della stazione del nucleo carabinieri forestali del parco di San Giorgio Morgeto hanno individuato un'impresa dedita all'allevamento dei bovini al cui interno era stata realizzata una conduttura abusiva che convogliava i liquami delle stalle direttamente in un'area boschiva protetta. Per questo motivo i due fratelli titolari dell'azienda sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Parmi. I controlli quindi si sono estesi anche a rispetto della normativa edilizia riscontrando alcune irregolarità in materia di smaltimento dei rifiuti industriali con la denuncia di otto imprenditori che avevano realizzato opere edili senza le previste autorizzazioni. Fra questi i due allevatori avevano costruito un'intera stalla per il ricovero dei suini. In tutto sono state contestate sanzioni per 220.000 euro e imposto l'obbligo di ripristino a dei luoghi che comunque sono stati sequestrati.